Francesco Vassallo, responsabile del Banco Alimentare per la provincia di Imperia, anche quest'anno la colletta è terminata, i ragazzi stanno lavorando in magazzino, camion da scaricare, muletti che girano, bancari che si spostano, direi che nonostante la crisi è andata abbastanza bene. E' andata benissimo, intanto il primo risultato è quello che avete appena descritto, che sono un grande gruppo di volontari qui nel magazzino centrale di raccolta, ma più di 500 hanno partecipato in tutta la provincia di Imperia per permettere la realizzazione di questo gesto. La cosa più importante è sapere dove va questo cibo che è stato raccolto, tantissima pasta, olio, legumi, anche alimenti per l'infanzia e resteranno in provincia di Imperia. Certo, è importantissimo sapere questo, tutti i prodotti che abbiamo raccolto resteranno nella provincia, ci sono 60 strutture caritative convenzionate col magazzino che abbiamo qui a Sanremo, una filiale del magazzino di Genova e tutte conosciute da noi uno a uno, controllate durante l'anno per l'attività che fanno, sia come aiuto sia per garantirci la sicurezza del buon fine di questi gesti. Tutto l'anno diamo e anche quest'anno abbiamo creato questo grande evento con l'aiuto di tantissime persone, proprio per poter dire a tutti in un momento di crisi come questo che la vita sta cambiando per colpa della crisi, ma che c'è una possibilità di speranza, di poter guardare la vita e quello che sta accadendo da uomini, potendo fare dei gesti di gratuità e aiutarci tutti. I poveri purtroppo aumentano, per fortuna la gente di cuore non diminuisce. La gente di cuore assolutamente non diminuisce, i primi segnali sono questi eventi, i risultati che stiamo vedendo dai primi supermercati che ci stanno portando le chiusure sono esattamente le stesse raccolte che abbiamo fatto l'anno scorso. In più abbiamo avuto, grazie a tanti volontari, la possibilità di fare in provincia 10 supermercati in più che ci consentiranno di aiutare ancora di più. E anche i detenuti. Anche i detenuti. Quest'anno abbiamo saputo ieri che la casa circondariale di Imperia, attraverso un gruppo di detenuti, ha chiesto la possibilità di fare la raccolta all'interno del loro spaccio. Oggi a mezzogiorno siamo andati a ritirare due scatole che quest'anno secondo me sono le più preziose che abbiamo raccolto.